Da martedì mattina la città di Fossombrone è sotto shock. Dopo essersi paralizzata e aver accolto il lutto cittadino indetto ieri dal sindaco, la comunità forse empronese è rimasta silente e attonita, si prepara al giorno del funerale di Marina Luzzi, la giovane madre di 40 anni uccisa nel suo appartamento martedì mattina da un colpo di pistola sparato gli dal 47enne Andrea Marchionni, vicino di casa nonché fratello del suo compagno Enrico. Funerali che si svolgeranno domani, venerdì 28 luglio alle 16 nella chiesa di Maria Ausiliatrice. Si partirà alle 15.45 dall'ospedale di Fossombrone per accompagnare l'ultimo saluto ad una donna rimasta vittima del caos mentale che viveva nella testa del cognato. Lo stesso cognato che quella mattina sceso dal suo appartamento ha raggiunto quello di Marina sola in quel momento e l'ha sparato alla fronte con un colpo solo a distanza di 20 centimetri. Colpo partito dalla sua pistola Beretta 9x21 che custodiva in una scatola dal 2020 per uso sportivo. Domani l'apparentemente placido killer sarà accolto dal jeep di Urbino al quale dovrà, se ci saranno, spiegare i motivi per cui è arrivato a compiere un gesto così estremo, movente che fino ad ora non è emerso. Lobby innocuo di ricopiare i quadri, ma anche il pensiero costante su vaccini, complotti e cellulari, strumenti che, a detta sua, spiano le persone. Questi ultimi elementi finivano per tormentare la mente e la quotidianità di una persona fragile diventata ormai instabile. La stessa instabilità che Marina aveva notato e che aveva riferito in questi ultimi anni con preoccupazione alla sorella Milena. Sorella che più volte l'aveva invitata a raggiungerla nella sua casa Fano, ma Marina non ha voluto spostarsi dalla sua abitazione. Quell'appartamento che condivideva con felicità e con entusiasmo con il compagno Enrico e la piccola Nicole di due anni e mezzo, colpiti ora da un dolore lancinante, ma abbracciati per sempre dall'amore di Marina.